Amen. Potete sedervi. Alleluia. Benedetto e lodato sia il nostro Signore che ci ha visitati nel giorno della salvezza, che realmente ci ha aiutati, che ci ha fatto grazia di riconoscere il giorno della salvezza, di credere ciò che dice la scrittura e di essere partecipi di ciò che Dio fa proprio ora sulla terra. Per favore sentitevi a vostro agio. Noi diamo il benvenuto a voi tutti, anche a tutti coloro che sono uniti a noi online, in ogni popolo, lingua e nazione. Perché così è scritto in Matteo, capitolo 24, verso 14. Questo Vangelo del Regno, con tutto ciò che appartiene al Regno di Dio, con tutto ciò che Dio ha promesso per questo tempo, e ciò che accade nel Regno di Dio, il Pieno Vangelo viene predicato a tutte le nazioni come testimonianza. E tutti coloro che credono e che l'accettano, ricevono la benedizione che Dio ha promesso. In particolare vorremmo dare il benvenuto a tutti coloro che sono qui oggi per la prima volta. Per favore alzate la mano o alzatevi in piedi, affinché possiamo darvi il benvenuto in modo speciale. Dio vi benedica? Dio ti benedica? Dio ti benedica? Dio ti benedica? Sì, grazie. E in particolare vorrei dare il benvenuto al nostro fratello Adi dalla Romania. Ovunque Egli possa essere adesso, il Signore Dio ti benedica in modo speciale. Egli mi telefona periodicamente e noi siamo uniti nell'amore di Dio. Poi abbiamo il nostro fratello dall'Angola in mezzo a noi, possa Dio benedire anche lui in modo particolare, e tutti i fratelli nel Ministero. Poi abbiamo saluti, proprio brevemente, proprio brevemente li trasmetteremo, molto brevemente. Saluti dal fratello Dottor Mbie, dalla Repubblica del Congo. Saluti dal fratello Kajaza, dal Camerun. Saluti dal fratello Jürgen, dal Sud America. Speciali saluti dal fratello Stefano Genton. Egli ha dato un breve resoconto, raccontando che i nostri fratelli in Iran non stanno molto bene. Là c'è la persecuzione. E per loro pregheremo in modo speciale. Saluti dal fratello Jacques da Abidjan, dal fratello John da Bucharest, dal fratello Joseph da Kinshasa, dal fratello Ngonga dall'Africa, dal fratello Jochen, dal fratello Kupfer, dal fratello Forestieri, dal fratello Justan dall'Olanda. Saluti dai fratelli del Guadalupe. Saluti dal fratello Graf. Saluti dal fratello Wendel Ellis da Edmonton. Saluti dal fratello Polniagi da Nairobi. Saluti dal fratello Olek dal Portogallo e da tutto il gruppo là. Saluti dal fratello Saidov. Saluti dall'Ucraina. E poi molto velocemente. Saluti dal fratello Grazian da Ashdot. Saluti dal fratello Motika. Saluti dal fratello Moses. Dal fratello Kalela. Saluti dal fratello Josue. Saluti dal fratello Mumunga. Saluti dal fratello Davi da Palermo. Saluti dal fratello Geshwint. Saluti dalla Nigeria. Saluti da Kigali. Da Colvezzi. Saluti dal Sudafrica. Saluti da Goma. Saluti dall'Ungheria. Saluti dal fratello e dalla sorella Olveti dalla Finlandia. E tutti i fratelli e le sorelle là. Saluti dal fratello Edoardo dall'Angola. Saluti dal fratello Silva da Città del Capo. Saluti da Cluj, Romania. Saluti dalla capitale della Costa d'Avorio. Saluti dal fratello Tresor. Saluti dal fratello Huberto. Saluti dal fratello Jonas. Saluti dal fratello Vincent. Saluti da Goma. Saluti dall'Italia. Saluti ancora una volta da Kigali. Saluti dal Sudafrica. Saluti ancora da Abidjan. Saluti dalla California. Saluti da Denver, Colorado. Ancora una volta saluti da Goma, dalla Romania. Di nuovo saluti dal Sudafrica. E saluti dal fratello Israel, dal Burundi. Per favore comprendetelo. Io leggo tutte le e-mail con molta attenzione. E ci rallegriamo realmente che possiamo essere uniti con tutti i fratelli e le sorelle in tutto il mondo. E che l'ultimo messaggio realmente raggiunge le estremità della Terra. E se posso menzionare questo qui, in collegamento con l'ultimo viaggio missionario in Etiopia e anche in Ruanda, è così potente che le persone, in ogni maniera, viaggiano per centinaia di chilometri, sia a piedi, sia in autobus o in qualsiasi maniera. Ma loro vengono realmente dall'est e dall'ovest e dal nord e dal sud, in ogni nazione. Ciò che realmente mi ha toccato ad Addis Abeba è stato che dopo la riunione un gentile giovanotto è venuto da me e mi ha salutato in lingua tedesca. Egli mi ha parlato in tedesco e mi ha detto mio padre è tedesco e mia madre è etiope ed io ho studiato otto anni a Monaco nell'università e ho questo diploma, questo diploma sono un interprete e d'ora in poi tradurrò tutte le tue circolari e tutti i tuoi opuscoli ogni cosa la pubblicherò nella nostra lingua è così meraviglioso come il Signore conduce ogni cosa sì, gli ultimi realmente vengono aggiunti adesso poi in Ruanda abbiamo avuto di nuovo delle grandi riunioni tra le 3.000 e le 4.000 persone e poi anche una riunione di fratelli con differenti fratelli da tutto il paese e anche dai paesi vicini ma permettetemi di dire questo con gran dolore permettetemi di dire questo mentre eravamo in viaggio verso il luogo dell'Assemblea dove ho parlato ai fratelli lungo il tragitto c'era un cartello sul lato sinistro e il titolo era la Chiesa dei Sette Tuoni e potete immaginare in tali momenti cosa accade in me costoro si riferiscono al profeta si riferiscono al messaggio e sono in realtà totalmente accanto a ciò nient'altro che fraintendimenti delle interpretazioni errate vengono trasmesse e specialmente il tema in merito ai Sette Tuoni l'ho letto oggi è stato nel febbraio 1982 quando ero insieme al fratello Barillet in Francia ed abbiamo avuto delle riunioni là e realmente per la prima volta mi fu chiesto cosa fossero i Sette Tuoni di Apocalisse capitolo 10 e ho dovuto dire non lo so ho detto loro arrivederci e ho salito le scale e sono andato a dormire oggi ho lo stesso orologio con me che avevo in quel tempo un orologio intramontabile non ha bisogno di batteria non si ferma mai ma il mattino seguente il mattino seguente quando questa potente esperienza era passata su questo orologio erano le 5 meno 5 del mattino dopo che realmente il Signore mi ha parlato con voce potente e mi ha detto mio servitore alzati e leggi 2 Timotio capitolo 4 voi potete immaginarlo quando viene dato un simile comando cosa deve accadere poi io lessi fino al verso 5 e poi di nuovo il verso 1 e quando arrivai al verso 2 quella è stata la risposta predica la parola predica la parola e quello che non è stato scritto non può essere predicato questo dobbiamo lasciarlo a Dio e mi chiedo realmente dov'è la riverenza dov'è il rispetto davanti alla parola di Dio dov'è con tutte queste persone quando la voce dal cielo disse suggella e non scrivere ciò che i sette tuoni hanno proferito mio Dio cosa mi rimane se non di rispettare questo per sempre e chi non rispetta questo passa accanto a ciò e deve essere aggiunto qui quando il fratello Brana ha avuto questa potente esperienza e quando la nuvola soprannaturale è discesa voi tutti lo sapete cos'è accaduto dopo sette potenti rombi di tuono echeggiarono e scossero l'intera regione e perciò questi sette tuoni avevano un significato speciale per lui e poi egli arrivò alla conclusione e disse nell'agosto 1964 tutto ciò che è contenuto nei sette tuoni è stato rivelato nei sette suggeri dunque Dio si è ringraziato per la riverenza che egli ha posto nei nostri cuori di avere il rispetto divino davanti alla sua santa e preziosa parola riguardo agli avvenimenti attuali non entreremo nei dettagli perché il tempo è troppo prezioso ma ogni cosa va avanti realmente ogni cosa va avanti e quando abbiamo letto questo testo qui che la fine di tutte le cose è vicina anche questo deve essere detto qui quando Dio ha fatto scrivere la Bibbia i profeti hanno annunciato ciò che sarebbe avvenuto e agli apostoli egli ha dettato ciò che dovevano scrivere affinché noi potessimo averla e leggerla oggi e così avere l'orientamento biblico nella parola di Dio e trovarlo la parola è stata scritta in tale maniera affinché potessimo leggerla fino al ritorno del Signore e realmente tramite la parola di Dio abbiamo l'orientamento divino voi tutti l'avete sentito che l'ONU vuole avere la religione dell'ONU tutte le religioni dovrebbero essere riunite nell'ONU proprio come tutte le nazioni sono riunite nell'ONU così pure tutte le religioni dovrebbero essere unite adesso e se guardiamo a tutto ciò qui Papa Francesco con Peres e qui c'è qualcosa questa è una cosa speciale che adesso accade in Italia il titolo dice il titolo dice il sogno di Dio è l'unità di tutti i cristiani sì che titolo il sogno di Dio è l'unità di tutti i cristiani e il Papa è andato in una delle più grandi chiese pentecostali in Italia e ha chiesto perdono per ciò che la chiesa romana ha fatto per il movimento pentecostale poi di nuovo l'enfasi in merito all'unità dunque si può notare realmente ciò che accade adesso come è tardi all'orologio del mondo e qui c'è Abbas e Papa Francesco qui nella sala di sopra a Gerusalemme si potrebbe andare da un documento all'altro e anche in ciò che accade adesso ho scritto la data era il 29 marzo 2014 quando è stato fatto il patto Europa Asia Russia Cina ed Iran il patto Europa Asia ed ora mi chiedo non voglio leggere qui in Ezechiele 36 37 38 e tutti i passi della scrittura ma perché perché queste due potenze atomiche hanno scelto l'Iran perché perché per essere davanti alla porta di Israele e se poi si considera ciò che è scritto del fiume Eufrate il fiume Eufrate è naturalmente in collegamento con il paradiso è scritto qui nella sacra scrittura e poi leggiamo che i quattro angeli del giudizio sono legati presso il fiume Eufrate per quell'ora giorno mese e anno per distruggere la terza parte dell'umanità ogni cosa va insieme ogni cosa viene adempiuta davanti ai nostri occhi e del continuo possiamo dire ciò che il nostro Signore ha detto in quel tempo quando vedrete accadere tutte queste cose allora alzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina e in particolare con Israele che Dio benedica Israele e anche questo deve essere aggiunto qui Dio disse ad Abramo in te saranno benedette tutte le nazioni della terra ma Dio ha usato un uomo una tribù un popolo per rivelare la sua parola e poi a tutti coloro che avrebbero creduto in Lui di includerli nel piano di salvezza Dio naturalmente non è contro le nazioni Dio è per le nazioni perché così è scritto in Isaia capitolo 42 e in Isaia capitolo 49 Dio stabilito come luce dei gentili affinché la mia salvezza raggiunga le estremità della terra Dio ha incluso tutti i popoli nel piano di salvezza e questo dobbiamo rispettarlo ma per favore non contro Israele ma con Israele perché questa è la via che Dio ha scelto fratelli e sorelle anche riguarda questo possiamo ringraziare il Signore che anche lì abbiamo l'equilibrio la salvezza non dipende da Israele ma dipende da Dio ma Dio ha benedetto Israele e Dio ha usato Israele come portavoce e così è stato anche con il ministero di Giovanni Battista non si può dire che tutto dipendeva dal suo ministero ma dipendeva da Dio che aveva dato questo ministero e che ha preparato la via chi passava accanto a Giovanni Battista passava accanto a Dio perché le profezie della Bibbia erano state adempiute attraverso il suo ministero e allo stesso modo è naturalmente nel nostro tempo noi non glorifichiamo un uomo non facciamo dipendere la salvezza da un uomo ma dipende soltanto da Dio che ci ha visitati nel giorno della salvezza ma se realmente è d'aiuto per voi e per me allora abbiamo trovato grazia al suo cospetto allora abbiamo riconosciuto il giorno della visitazione di Dio ed abbiamo parte in ciò che il Signore fa proprio ora nel nostro tempo bene per quanto riguarda questa parte ora nel secondo cantico abbiamo cantato con tutto il nostro cuore e fratelli e sorelle preziosi amici il perdono il perdono dei peccati è la cosa più importante con quello inizia tutto con questo inizia non con il messaggio inizia con la fede in Gesù Cristo il nostro Signore è Salvatore inizia con questo che Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé che Giovanni Battista non ci ha portato soltanto un messaggio ma egli poteva dire ecco questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e la stessa cosa l'abbiamo nel messaggio del tempo della fine l'abbiamo ascoltato è lì che è stato posto il peso che tutte le benedizioni sono in Cristo Gesù il nostro Signore ora permettetemi di leggere brevemente alcuni passi della scrittura il primo nel Vangelo di Luca Vangelo di Luca e qui leggiamo nel capitolo 1 verso 68 Luca capitolo 1 verso 68 benedetto sia il Signore Dio di Israele perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo e ci ha suscitato una potente salvezza Dio ha visitato il suo popolo con misericordia e ha dato loro la salvezza verso 72 per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto ed ora vengono i due versetti molto importanti per me ogni versetto è importante versi 76 e 77 e tu o piccolo bambino sarei chiamato profeta dell'altissimo perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie ed ora viene per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati dunque questa è stata la proclamazione di Giovanni Battista e se poi continuiamo a leggere in Luca capitolo 3 qui sta scritto nel verso 3 Luca capitolo 3 verso 3 egli allora percorse tutta la regione nei dintorni del Giordano predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati dunque non si trattava soltanto del messaggio ma si trattava del perdono dei peccati in merito al patto che Dio ha fatto con noi il primo patto con tutte le promesse e poi il nostro Signore ha detto molto chiaramente questo è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per molti per la remissione dei peccati la nostra vita con Dio inizia con l'esperienza della salvezza della remissione dei peccati e che realmente tutti che tutti coloro che non hanno fatto ancora questa esperienza di salvezza che non l'hanno ancora ricevuta da Dio per favore fate il giusto inizio fate il giusto inizio quando ho letto il titolo che i cristiani dovrebbero essere uno Dio Dio non ci ha fatti cristiani ma ha fatto di noi figli e figlie di Dio il redentore è nato come figlio di Dio e poi quando lo spirito santo venne sopra di lui Cristo Messia Messia allora egli era il Cristo il figlio di Dio e cosa è scritto nell'Antico Testamento voi che non eravate mio popolo sarete chiamati figli e figlie del Dio vivente noi naturalmente non entriamo nel regno di Dio perché siamo entrati nel cristianesimo o perché ci uniamo a una chiesa o a una denominazione il nostro signore ha detto molto chiaramente voi dovete nascere di nuovo altrimenti non potete vedere il regno di Dio e ciò che è nato dalla carne è carne e carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio e perciò il nostro signore l'ha evidenziato che dobbiamo nascere dallo spirito di Dio e qui io penso a ciò che è scritto di Maria del continuo lo leggiamo qui sta scritto in Luca capitolo 1 verso 45 Luca capitolo 1 verso 45 ora beata ecco lei che ha creduto perché le cose dettele da parte del signore avranno compimento in primo luogo la promessa poi la fede e poi l'adempimento così è stato allora e così è oggi noi ascoltiamo la parola di Dio e la crediamo e la parola è la semenza che noi riceviamo e poi viene lo spirito di Dio sopra di noi e ci conduce al ravvedimento ci conduce al ravvedimento e poi noi sperimentiamo che moriamo a noi stessi che moriamo con Cristo per risorgere a nuova vita con Lui tramite la grazia di Dio anche in Luca capitolo 3 l'uomo di Dio ha detto di nuovo Luca capitolo 3 verso 16 Luca capitolo 3 verso 16 Giovanni rispose dicendo a tutti io vi battezzo con acqua ma viene colui che più forte di me al quale io non so neppure degno di sciogliere il legaccio dei sandali egli vi battezzerà con lo spirito santo e col fuoco veniamo a due o tre passi della scrittura che parlano del perdono che parlano della salvezza atti capitolo 2 e quante volte l'abbiamo detto fratelli e sorelle e lo intendiamo dire veramente la prima e l'ultima predicazione devono concordare ogni cosa che è stata predicata all'inizio e che è stata sperimentata anche noi possiamo sperimentarla adesso tramite la sua grazia qui è scritto in atti capitolo 2 verso 38 atti capitolo 2 verso 38 allora pietro disse loro ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di gesù cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello spirito santo ed ora viene indirizzato a noi tutti poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani per quanti il signore dio nostro ne chiamerà quando ascoltate realmente la chiamata del signore e quando venite a lui e quando pregate per il perdono allora ricevetelo per fede ciò che è scritto che perdona tutte le tue iniquità e che sana tutte le tue infermità nulla assolutamente nulla è rimasto di quello che c'era lì del peccato realmente come è vero che il signore ha sparso fino all'ultima goccia del suo sangue e come è certo che egli è entrato col suo sangue nel luogo santissimo mettendolo sul trono di grazia così è certo che noi siamo stati riconciliati con dio così è certo che i nostri peccati sono stati perdonati e le nostre malattie sono state guarite riceviamolo oggi di nuovo per fede diciamo signore ti ringrazio questo è diventato realtà o diventerà realtà nella mia vita nel libro degli atti degli apostoli capitolo 10 allo stesso modo abbiamo il resoconto o la predicazione di quello che è stato detto qui atti degli apostoli capitolo 10 atti degli apostoli capitolo 10 verso 43 atti capitolo 10 verso 43 a lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque senza eccezione chiunque crede lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome chiunque e chiunque senza eccezione così è stato proclamato dai profeti e così è stato predicato dagli apostoli chiunque avrà invocato il nome del signore sarà salvato e riceve il perdono dei peccati in atti degli apostoli capitolo 13 l'uomo di dio ha detto qualcosa di molto importante riguardo a questo tema atti degli apostoli capitolo 13 e qui il verso 32 atti capitolo 13 verso 32 e noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri dicendovi che dio l'ha adempiuta per noi loro figli avendo risuscitato Gesù e poi poi il verso 38 verso 38 vi sia dunque noto fratelli che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati deve essere detto qui molto chiaramente e fratelli e sorelle facciamo il giusto e corretto inizio seguendo il Signore non dicendo soltanto nella nostra mente io credo il messaggio in primo luogo credere credere nel Signore Gesù Cristo per ricevere il perdono per ottenere il collegamento con Dio e per ricevere la parola quale semenza e nascere di nuovo ad una vivente speranza questo è realmente il nocciolo di tutta la proclamazione e poi veniamo in primo Pietro abbiamo già letto in Pietro ma ora veniamo in primo Pietro qui l'uomo di Dio nel primo capitolo ha scritto ciò che era diventato grande per lui personalmente e ciò che egli aveva sperimentato con Dio e ciò che egli ha trasmesso a noi tutti prima epistola di Pietro capitolo uno verso sì in realtà i versi 18 e 19 prima epistola di Pietro capitolo uno versi 18 e 19 sapendo che non con cose corruttibili come argento o oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia e prima di questo se volete leggerlo è scritto in primo Pietro capitolo uno dal verso dieci della salvezza intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi i profeti hanno investigato hanno annunciato ma gli apostoli l'hanno sperimentato l'hanno visto e nel verso 11 cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite ed ora viene quello che ci parla in modo particolare verso 12 a loro fu rivelato che non per se stessi ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal Cielo cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro fratelli e sorelle nel nostro tempo per grazia noi sperimentiamo la stessa cosa i profeti investigavano quando Isaia profetizzò una vergine concepirà quando tutte le profezie furono annunciate e loro non hanno visto l'adempimento ma quando il tempo fu compiuto allora una profezia dopo l'altra è stata adempiuta e allora il nostro Signore ha aperto l'intendimento ai discepoli per conoscere l'adempimento delle profezie della scrittura e fratelli e sorelle questo va fino a Matteo capitolo 17 e Marco capitolo 9 dove il nostro Signore scese dal monte della trasfigurazione insieme ai suoi discepoli e loro gli chiesero perché gli scribbi dicono che prima deve venire Elia e poi la risposta del nostro caro Signore Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa egli ha parlato al futuro e poi quando si è riferito al ministero di Giovanni Battista egli ha detto Elia è già venuto egli avete fatto quello che avete voluto disponendo il collegamento divino delle profezie della Bibbia e le cose sono scritte in un solo versetto tuttavia possono accadere in tempi diversi per esempio Malachia capitolo 3 verso 1 nella prima parte è scritto io mando il mio messaggero davanti la mia faccia per preparare la via davanti a me la seconda parte è l'angelo del patto che voi bramate entrerà nel suo tempio il signore degli eserciti sì cari la prima parte si è adempiuta voi potete leggerlo nel vangelo di Matteo nel vangelo di Marco nel vangelo di Luca e la seconda parte sarà adempiuta quando il signore quale angelo del patto discenderà quando metterà un piede sul mare e uno sulla terra fratelli e sorelle Dio ci ha rivelato la sua parola ci ha mostrato tutti i contesti affinché potessimo vederli e collocarli biblicamente e come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione la fine di tutte le cose è vicina sì molto bene è vicina ma parlate alle persone parlate alle persone al riguardo quali promesse sarebbero state adempiute prima della diretta fine questo deve essere detto appartiene alla proclamazione come Matteo 24 verso 14 come Matteo 24 verso 24 e come ogni cosa nella scrittura deve giungere a compimento che i falsi profeti e i falsi cristi avrebbero detto Cristo eccolo qui Cristo eccolo là e poi non andate via dicendo ma ogni cosa deve essere adempiuta nel nostro tempo per esempio l'unità dove l'unità di Dio padre tu in me e Dio in loro affinché siano uno anche riguarda questo possiamo leggerlo nel Vangelo di Giovanni non una unità con Roma e non una unità qua e là ma uno con Dio tramite Gesù Cristo il nostro Signore e perciò è scritto qui dei veri credenti che sono odiati da questo mondo e l'ora è molto vicina in cui coloro che tengono delle riunioni di questo genere che non si adattano a ciò che va avanti adesso costoro perderanno il loro diritto di avere tali riunioni tuttavia ascoltate ciò che è scritto qui in Giovanni capitolo 17 Giovanni capitolo 17 verso 14 io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come neppure io sono del mondo e poi il verso 17 santificali nella tua verità la tua parola è verità come tu hai mandato me nel mondo così ho mandato loro nel mondo verso 23 io sono in loro e tu in me affinché siano perfetti nell'unità non i protestanti e tutte le chiese e denominazioni e chiunque siano questa è un'unità religiosa mischiata con la politica noi quali figli di Dio ora siamo uniti sotto un solo capo e Gesù Cristo è il capo della sua chiesa ed egli non edifica molte chiese egli edifica una chiesa così è scritto e così è prendiamo le cose seriamente e comprendiamo che nell'ambito religioso nell'ambito economico e politico in ogni ambito le profezie della Bibbia vengono adempiute davanti ai nostri occhi anche che il re del nord viene sfidato del quale è scritto che anche la Persia la Persia viene menzionata e l'Iran di oggi è la Persia di ieri potete leggerlo qui osservate qui in Ezechiele è scritto in Ezechiele ve lo leggo chi farà parte di questo si e chi guarda l'impero russo più di 7000 chilometri sì fino ai confini della Mongolia fino in Cina fino a che si può vedere da Vladivostok in Giappone e poi intorno e questo è il re del nord dal quale avverranno le cose e poi è scritto qui chi vi parteciperà in Ezechiele capitolo 38 verso 5 e con loro la Persia l'Etiopia e putte vi faranno parte perché menziono questo il patto che è stato fatto affinché il re del nord e gli eserciti dell'este abbiano preparata la via come è scritto in Apocalisse capitolo 16 possiamo leggere tutto è scritto ogni cosa è scritta nella parola di Dio poi il fiume Eufrate sarà prosciugato e la via sarà preparata per il re dell'este e poi accadrà fratelli e sorelle noi non lo diciamo soltanto è così siamo arrivati nell'ultima fase del tempo della fine il Signore chiama fuori gli ultimi e chi ha occhi per vedere veda e chi ha orecchi per udire oda e chi ha un cuore da Dio riceva e creda ciò che Dio ci ha lasciato e ci ha promesso nella sua parola quando vedrete tutte queste cose io non so come vi sentite ma è così preziosa così preziosa questa parola ed è così chiara Dio ci ha detto ogni cosa in modo così chiaro che anche un insensato non può smarrirsi e specialmente quando lo Spirito Santo ci guida in tutta la verità e se riconosciamo il tempo e l'ora fratelli e sorelle se riconoscessimo soltanto che Dio ha portato indietro Israele pensate semplicemente alla dichiarazione di Balfour del 1917 dove il ministro degli esteri inglesi disse il popolo di Israele ha bisogno di una patria ha bisogno di una terra e questa è la cosiddetta dichiarazione di Balfour del 1917 e questo tutti l'hanno sperimentato da più di 150 nazioni Dio ha radunato il suo popolo nella terra della promessa e qui potremmo leggere un profeta dopo l'altro Isaia Geremia Ezechiele potremmo leggere in Amos potremmo leggere in tutti i profeti per vedere ciò che Dio ha promesso e ciò che accadrà alla fine dei giorni perfino nel profeta Ezechiele qui abbiamo tre meravigliosi versetti che riguardano il popolo di Israele Ezechiele capitolo 37 Ezechiele capitolo 37 versi 26 27 e 28 stabilirò con loro un patto di pace sarà un patto eterno con loro li renderò stabili li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre la mia dimora sarà presso di loro sì io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo anche le nazioni riconosceranno che io l'Eterno santifico Israele quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre allora tutte le nazioni lo riconosceranno fratelli e sorelle prima che questo accada con Israele e con le nazioni lasciate che accada prima con voi e con me con noi che Dio possa prendere dimora in mezzo a noi l'Altissimo non dimora in case fatte da mano d'uomo il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabbello dei miei piedi ed egli ha detto io dimorerò in voi e sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo come certo che abbiamo ricevuto la parola di Dio e come certo che il Signore è la parola vivente così è certo che gli ha preso dimora nel vostro e nel mio cuore e noi siamo uniti con Dio e tutti coloro ai quali ci si è riferiti prima chi non ha fatto ancora un'esperienza di salvezza con Dio che possa accadere oggi per grazia affinché realmente l'inizio sia fatto come l'abbiamo già menzionato non serve a nessuno parlare in merito al messaggio e al messaggero noi abbiamo bisogno del personale collegamento con Dio abbiamo bisogno della riconciliazione del perdono della grazia e della salvezza di noi deve essere detto nel giorno della salvezza ti ho aiutato egli ha aiutato voi e me e questo è il giorno della salvezza riassumiamo fratelli e sorelle il nostro compito davanti a Dio è di predicare tutto il consiglio di Dio di esporre ogni cosa al popolo di Dio come ci è stato lasciato nella parola di Dio di rispettare che egli ha mandato il suo profeta nel nostro tempo ogni cosa è stata rivelata da ciò che è accaduto nel giardino dell'Eden fino all'apertura dei sette suggelli Dio ha fatto ogni cosa per grazia per attirare la nostra attenzione a ciò che egli ci ha promesso e che noi possiamo ricevere per fede sapendo che colui che ha dato le promesse vigila sulla sua parola per adempierla diciamolo molto chiaramente soltanto colui che ha trovato grazia davanti a Dio adesso in questo tempo riconoscerà le vie di Dio come scritto in Esodo capitolo 33 dove Mosè ha detto Signore se ho trovato grazia al tuo cospetto fammi conoscere le tue vie affinché tramite questo io riconosca che ho realmente trovato grazia al tuo cospetto Dio ci ha fatto trovare grazia al suo cospetto ci ha rivelato le sue vie ci ha illuminato la via giusto come egli illuminava la via ad Israele tramite la colonna di nuvola e di fuoco così tramite il ministero del fratello Branham la colonna di nuvola e di fuoco scendeva ripetutamente e Dio ci ha illuminato il cammino ci ha riportato indietro e noi possiamo credere come dice la scrittura e come abbiamo letto in Pietro i profeti investigavano per sapere in quale tempo questo si sarebbe applicato e quando questo sarebbe accaduto noi non soltanto investighiamo ma investighiamo le scritture è scritto investigate le scritture e noi le investighiamo e troviamo le promesse e vediamo adesso ogni cosa come menzionato prima in ogni ambito lo vediamo in ogni ambito nell'ambito religioso nell'ambito politico con Israele con le nazioni vediamo le profezie della Bibbia nel loro molteplice adempimento permettetemi di dire qui la cosa più importante è che riconosciamo ciò che Dio ha promesso alla Chiesa che crediamo con tutto il nostro cuore e che possiamo fare il giusto inizio con il Signore entrando per la porta stretta camminando nella via stretta che conduce alla vita eterna ricevendo il perdono grazia e salvezza e soltanto allora siamo realmente aiutati nel giorno della salvezza se passiamo accanto al perdono allora non siamo stati ancora aiutati noi siamo aiutati soltanto se riceviamo ciò che Dio ha promesso per il giorno della salvezza se realmente l'accettiamo e crediamo e lo sperimentiamo personalmente allora voi ed io siamo aiutati nel giorno della salvezza ora ho giusto una domanda quanti vogliono che il Signore ci aiuti nel giorno della salvezza allora alziamoci in piedi alziamoci in piedi cantiamo il coro così qual sono non la mia forza ma la tua soltanto non la mia forza non la mia forza Se c'è ancora qualcuno in mezzo a noi che non ha ancora consacrato la sua vita al Signore e che vorrebbe venire qui di fronte può farlo. Non deve essere per forza, potete credere e ricevere anche lì dove siete e potete andare a casa da questo luogo con la piena benedizione. Cantiamo ancora una volta così qual sono. Mentre abbiamo i nostri capichini in preghiera mentre chiudiamo i nostri occhi e apriamo i nostri cuori davanti a Dio fratelli e sorelle e il Signore naturalmente parla attraverso la sua parola così direttamente personalmente a ciascuno di noi come se gli fosse in mezzo a noi parlandoci. Chi pensa o è il fratello che l'ha detto e il fratello che l'ha predicato, chi pensa questo non potrà essere aiutato ma chi trova il collegamento con Dio, chi crede in Gesù Cristo per fede questi sarà aiutato nel giorno della salvezza questi può sperimentare il Salmo 103 egli è colui che perdona tutte le tue iniquità e che sana tutte le tue infermità ditelo, ditelo, confessatelo con le vostre labbra io credo in te caro Signore Gesù io credo che tu sei l'agnello di Dio che ha dato il suo sangue per me che è morto per me dandomi il perdono per grazia credetelo tutti con tutto il vostro cuore perché così è scritto predichiamo il perdono e chi crede riceverà il perdono ricevetelo, accettatelo e ringraziate il Signore con tutto il vostro cuore per questo la stessa cosa si applica per tutti gli ammalati fratelli e sorelle quando diventiamo anziani lo sentiamo nei nostri corpi ma tutte le malattie tutte le infermità che non hanno nulla a che fare col diventare anziani sono già state guarite e noi possiamo venire con ogni cosa al Signore e anche con quello che riguarda l'anzianità possiamo venire al Signore con ogni cosa l'ho detto perché nessuno dovrebbe disperarsi nessuno dovrebbe vergognarsi ma tutti devono credere con tutto il cuore anche noi tutti che diventiamo anziani che abbiamo debolezza nel corpo qua e là il Signore porta noi e la debolezza Egli è naturalmente con noi questo Egli l'ha promesso riceviamolo oggi per fede quale Chiesa universale del Dio vivente il pieno perdono la piena liberazione sì ci sono ancora alcuni che sono legati credete adesso che tramite il sangue dell'agnello voi siete liberi siete liberi e chi il Figlio di Dio rende libero è veramente libero ricevetelo accettatelo e ringraziate il Signore con tutto il vostro cuore per questo dunque la salvezza la guarigione la liberazione così il nostro Signore l'ha proclamato lo spirito del Signore Dio è sopra di me per proclamare la libertà a quell'incattività l'apertura del carcere ai prigionieri caro Signore ti ringrazio per il pieno Vangelo che sia manifestato oggi in mezzo a noi la piena redenzione la piena liberazione la piena guarigione e la piena rivelazione della Tua parola e della Tua volontà caro Signore a Te l'Onnipotente Dio sia la lode e l'onore la gloria e l'adorazione la gloria e l'adorazione alleluia cantiamo cantiamo prima che preghiamo di nuovo cantiamo il coro questo è il giorno e per favore ricordatelo ricordatelo questo è il vostro giorno il mio giorno il mio giorno il nostro giorno che il Signore ci ha dato oggi alleluia grazie a tutti tutti qui Chi può dire amén a questo? Amén, questo è il giorno che il Signore ha fatto per voi e per me. Preghiamo insieme. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per il pieno Vangelo, per la piena salvezza che Tu ci hai dato per grazia. Ti ringraziamo per il giorno della salvezza, per il tempo accettevole, per il messaggio, per il messaggero. Ti ringraziamo per ogni cosa. Caro Signore, noi glorifichiamo la potenza del Tuo sangue, della Tuo parola e del Tuo spirito. E diamo a Te solo l'Onnipotente Dio la gloria. Benedicici insieme a coloro che sono uniti a noi online. Benedicici insieme. Benedici all'est e all'ovest, al nord e al sud. Benedici in ogni lingua, in ogni popolo, in ogni tribù. Benedici e completa, completa, completa la Tua opera fino al giorno glorioso del Tuo meraviglioso ritorno. Alleluia! Maranata! 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 Nostro Signore viene! Alleluia! 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 Lodatelo! Lodatelo! Lodate il Signore! Alleluia! 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 Fratelli e sorelle, fratelli e sorelle, oggi nessuno dovrebbe essere escluso, non perché dobbiamo, ma per riconoscenza, per riconoscenza, si dovrebbe dire alleluia al Signore. Alleluia! Alleluia! Amen! Amen! Alleluia! 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 Per sì! Alleluia! Alleluia! Quando hanno un cantico, noi tutti rimaniamo in preghiera, uniti col Signore. Quanti sono riconoscenti al Signore per la parola? Alleluia! Lode al nostro Dio! Alleluia! 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 Oh Gott! grazie 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 a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Gib mir die Sanftmut und deine Fülle zu deinem Bild gestalte du mich. O ja, dir Englisch, o ja, dir Englisch, Jesus, ich flehe, rein wie du bist. Gib mir die Sanftmut und deine Fülle, zu deinem Pilz gestalte du mich. Amen, Amen. 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 Signore, sii con tutti, aiuta tutti, aiuta tutti, sii presente Signore perché tu sei il nostro aiuto, il nostro guaritore, la nostra salvezza, tu sei tutto in tutti, attraverso di noi e con noi, tu sei diventato tutto per noi, per favore benedici dal sorgere del sole fino al suo tramonto, benedici ovunque al di là di ciò che possiamo chiedere e di ciò che possiamo comprendere. A te, l'onnipotente Dio, noi diciamo grazie per la tua preziosa e santa parola, grazie per il tuo prezioso e santo sangue, grazie per lo Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità, grazie per il messaggio dell'ora, grazie per il messaggero che tu hai mandato. Tu ci hai illuminato la via per ritornare, abbiamo trovato la via per tornare indietro a Gerusalemme, indietro al principio, indietro all'origine, indietro alla parola, indietro alla potenza di Dio. Caro Signore, grandi cose tu hai fatto in noi tutti e noi ti glorifichiamo e ti lodiamo per questo. Benedici tutti nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. 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 Il Signore è realmente presente. Egli conferma la sua parola. Egli ha ascoltato le preghiere ed ha aiutato noi tutti. Ora chiediamo al fratello Mischis di chiamare il nostro fratello dall'Angola per favore di alcune parole e poi egli pregherà con noi. Tu puoi tradurlo. Anche lui mi ha invitato affinché ritorni in Angola. Nostro Padre Celeste, ti siamo così riconoscenti per questa meravigliosa grazia che tu hai manifestato in noi tutti, che possiamo essere partecipi della gloria di Dio. Ti ringraziamo perché è piaciuto a te di darci il regno di Dio. Tu ci hai dato la parola dell'ora, la parola della verità, che ci fa riconoscere la perfetta volontà di Dio. Guidaci nel tuo piano. Grazie Padre Celeste. Tu hai preparato una ricca tavola davanti a noi. Ci hai dato il cibo. Ti ringraziamo per questo. Benedici ciascuno di noi in modo speciale. Dacci la possibilità che possiamo mettere la tua parola in pratica. Di non essere soltanto uditori della parola, ma di essere facitori della parola. Allora avremo il tuo compiacimento. Benedici lo strumento che tu usi per nutrire il tuo popolo. Custodiscilo nella tua perfetta volontà. Sì sempre con noi, Signore, fino al giorno glorioso del tuo ritorno. che possiamo rimanere fermi nella tua parola e che ogni interpretazione sia allontanata da noi e custodiscici nella tua verità. Grazie Signore. Libera tutti i prigionieri, guarisci tutti gli ammalati, aiuta tutti i deboli, salva e benedici. Unisci il tuo popolo come tu hai pregato che possiamo essere uno come tu e il Padre siete uno. Grazie Signore. Possa tu essere glorificato per sempre. nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Amen. Glorie a Dio. Sì, si nota realmente che il cuore è pieno. Il nostro fratello ha avuto difficoltà a tradurlo. Di ciò che il cuore è pieno, la bocca parla. Tuttavia abbiamo compreso ogni cosa in modo corretto. Menziono adesso il nostro fratello, il nostro fratello dalla Romania. Lunedì o martedì mi ha telefonato e ha detto fratello Frank, ho ascoltato la tua predicazione a Londra e ho compreso ogni cosa perfettamente. Ed io ho detto dentro di me, ma questo fratello non parla affatto l'inglese. Come può dire di aver compreso tutto perfettamente? E ho pensato, Dio gli ha fatto una grazia speciale. E mercoledì ho ricevuto una telefonata che il fratello John ha tradotto la predicazione simultaneamente dall'inglese in lingua rumena. E così lui non ha avuto problemi a comprendere. Permettetemi di fare questa osservazione. Questo non era mai esistito prima sulla Terra. Ciò che sperimentiamo adesso, sia quando predico a Krefeld o a Bucharest o a Londra, sia che io predichi in Africa o in Asia, ovunque predichi la parola, ovunque nel mondo, può essere ascoltato ciò che viene predicato. Che grazia! Venti anni fa non era ancora possibile. Forse dieci anni fa non era ancora possibile come è possibile oggi. Ringraziamo il Signore Dio anche per questo, che ci ha dato la possibilità che la sua preziosa e santa parola raggiunga le estremità della Terra. Il fratello Smith pregherà con noi. Grande Dio, ti ringraziamo in quest'ora in cui tu ci hai radunati qui. Signore, siamo venuti in questo luogo per avere comunione con te attraverso la tua santa parola. Ti chiediamo, come il fratello ha pregato, Signore, di non essere soltanto uditori della tua parola, ma di diventare falcitori della tua parola. Ti ringraziamo che possiamo confidare in te. Possiamo guardare a te e tu ci benedici dalle ricchezze della tua grazia. Tu ci benedici tutti. Tu conosci tutti i nostri bisogni, Signore. Là sulla croce tu hai gridato e compiuto per noi tutti. Ringraziamenti e adorazione siano resi a te. Benedici ciascuno di noi, grandi e piccoli, giovani e vecchi. Signore, noi ti preghiamo rimani con noi anche questa notte, Signore. E se ci sarà un domani che possiamo venire di nuovo in questo luogo. Per favore, disponi i nostri cuori per ricevere ciò che tu hai da dirci. A te sia il ringraziamento, l'onore e la gloria nostro Dio in Cristo Gesù il nostro Signore. Amen. Cantiamo Alleluia A te sia il ringraziamento, l'onore e 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 l'